Buonasera, forestieri e giavenesi! Che bello ritrovarvi ogni Natale! Mi sento così brillante, canterino, mentre avvolgi il mondo di Gondor! Ah, che magia, il Natale! Pensate che, quest'anno, gli alberi del palco si sono messi in testa di cantare in coro le carole natalizie? Che dilettanti! Sono io il bocione di giaveno! Senza il barito non esorista, possono combinar ben poco! Eh, che voce? Ai miei tempi vinsi anche la prima edizione di Piemunz Got Talent! Mica come gli alberi del palco che studiano le parti da inizio autunno e ancora non le hanno imparate! A forza di infinite ripetizioni, i poveri animali hanno dovuto insonorizzare le loro tale per riuscire a stare un po' in pace! Andate a sentire voi stessi! Oh, che stonature! Dalle ugole legnose di Frondo, Dora e Gaia! Ma cos'è questa novità? Che si siano finalmente armonizzati? Bene, è il mio momento! Ediltro, Dora e Gaia! Scrizione on Si Grazie a tutti.